Filippo Inzaghi, Forlan, pallone interessante in verticale, occasione d'oro, cerca il tiro, trovano la rete, sono di nuovo in parità, qui può partire il contropiede, ci prova con un pallone profondo, riceve il passaggio, supera il diretto avversario, può provare, la sfera entra in porta, e siamo di nuovo in parità, una sfida senza... Beckham Ottimo passaggio, deve tirare, può provare, go, non sbaglia, e segnano il primo gol dell'incontro Errore qui, pallone sprecato, trova il compagno in buona posizione, qui cercherà il tiro Beckham, tanto meno discutibile Pallone interessante in verticale, colpisce il pallone, e c'è il gol Non potevano trovare gol in un momento migliore Niente Forlan Ecco il filtrante per Filippo Inzaghi Solo il portiere si frappone, tralurava la conclusione Non si fermano più, ancora segno Vantaggio di tre reti, potrebbe anche essere il gol della sicurezza Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente, magnifico L'epiloto del match, uno scontro combattutissimo, ma alla fine il lago della bilancia è l'unico Gol segnato, Meret ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo Una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà Oggi è stato così